Ciao, sono Riccardo e dal 2018 insegno ai ragazzi come saperci fare con le ragazze. Con sotto in descrizione al sito www.rinascere.net trovi vari percorsi di miglioramento evocato per voi, scegli quello che fa per te. Cosa intende una donna quando ti dice che vuole sentirsi unica? Questa, se vogliamo, è la richiesta più grande, principale, che fa una donna in un rapporto con un uomo. Ovvero la ragazza, la donna, vuole sentirsi unica, speciale per il proprio uomo. Vuole sentirsi diversa da tutte le altre, vuole avere l'illusione di essere la ragazza che l'uomo in questione in quel momento tratta meglio di chiunque altra e che ha trattato o tratterà meglio di qualsiasi altra ragazza che è stata con lui. Perché? Perché le ragazze sono gelose e barra invidiose delle altre donne che hanno avuto a che fare con il proprio uomo. Quindi hanno sempre la pretesa, anche giustamente in un certo senso, di voler essere trattate dall'uomo come meglio lui può. E quindi farle sentire uniche, irripetibili, indispensabili quasi. Poi è ovvio che questo cozza con quello che io dico sempre del non unicizzare una ragazza. Però questo vale all'inizio, quando ovviamente c'è il balletto della seduzione. Quando invece la relazione si fa seria e la coppia diventa stabile, è ovvio ed è giusto che la donna si senta unica per il suo uomo. Così come voi dovete sentirvi unici per lei. Perché si instaura quello che è appunto un rapporto di unicità. Cioè non ci sono scappatelle o altre relazioni, ma ognuno dei due deve essere l'unico per l'unica per l'altro o l'altra. Quando dice che vuole sentirsi unica intende vuole sentirsi speciale, ascoltata, apprezzata e coccolata. Una donna in una relazione cerca un partner che la possa far sentire speciale, unica, diversa da tutte le altre e che la sappia supportare, e sopportare anche tra le parentesi, quando ce n'è l'occasione. Insomma, quando lei ti dice che vuole essere unica, vuole accertarsi che nella tua testa, quando tu pensi a una donna, ci sia lei in buona sostanza. Non tua sorella, non tua mamma, ma ci sia lei. Perché in un rapporto di coppia lei vuole sentirsi speciale, apprezzata, tutte quelle cose che ho detto anche in precedenza, dal suo uomo. E quindi lei si aspetta che tu faccia questo. Poi, ovvio che se è una relazione pari, lei farà la stessa cosa con te. Quindi sarai l'unico suo punto di riferimento maschile e la persona alla quale si rivolgerà in caso di qualunque tipo di aiuto che puoi offrire, ma soprattutto supporto. Questo significa che non puoi avere nessun tipo di rapporto con nessun'altra femmina esistente sul pianeta? No, certamente. Ma lei vuole avere la certezza di essere un gradino sopra a tutte loro. Questo è quanto. Io vi ricordo come sempre che qua sotto in descrizione al sito www.rinascere.net trovate i vari percorsi di miglioramento che ho creato per voi. Scegliete quello che preferite. Ci vediamo nel prossimo video.